Dream Cash, gradualmente la macchina prende velocità ed è ormai prossima allo stacco, la rottura breve di Filcinella-Wald va davanti, Perfect Font all'esterno è veloce, Petrolio Lux fra i due Shepty Trio, si va verso l'imbocco della prima curva con Petrolio che va deciso su Perfect Font e ottiene strada. Terza posizione alla corda per Point Break, Petrolio al comando, Perfect di rincalzo, poi Point Break su Pt Trio, quindi Petrus, poi Porfirio B che prende la via del largo, Filcinella-Wald, Pilgrim Cash, Petrolio Lux, Battistrada, completa i primi 600 metri in 47 scarso, lo segue Perfect Font, Porfirio di sale, in corda Point Break, allargo Pilcinella, poi ancora Pt Trio davanti a Petrus, allargo Pilgrim Cash. In quest'ordine concorrenti al passaggio dei primi 800 metri che il leader completa in 1.3 abbondante, lo seguono in coppia Perfect e Porfirio, poi Point Break e Pilcinella. Ancora Pt e Pilgrim in coda a Petrus, il primo chilometro di Petrolio Lux sul piede del 1.19 scarso, al suo esterno in calza Porfirio, in corda Perfect allargo Pilcinella-Wald, mancano 400 metri al termine con Petrolio in vantaggio che per il momento riesce a svincolarsi da Porfirio, in corda c'è sempre Perfect Font davanti a Point Break, allargo Pilcinella-Wald, ingresso della retta di arrivo, Petrolio in vantaggio su Perfect e Point Break, allargo Porfirio. Perfect si affaccia su Petrolio, di dentro si butta Point Break, a centro pista scatta Pilcinella, Perfect attacca Petrolio che cerca la difesa sul palo, vicinissimi i due, poi Pilcinella-Wald al terzo posto. Arrivo difficile da decifrare, anche perché Perfect Font è proprio al ciglio esterno, quindi anche valutare un filo di prospettiva è più complicato, il cameraman vedo si è indirizzato su Petrolio, quindi evidentemente pensa che sia Petrolio averla spuntata, ma Perfect l'ha insediato tantissimo. Vediamo un po', vediamo un po' da questa inquadratura, se riusciamo a stabilire meglio i distacchi. Da qui sembrerebbe Perfect Font, però attenzione perché c'è un discorso di prospettiva da valutare, perché Perfect è veramente al ciglio esterno, fra i due c'è Pilcinella-Wald al terzo e l'unica certezza, poi Point Break e Porfirio B a completare il marcatore.